Buongiorno ragazzi ben ritornati in questo nuovissimo video con noi usiamo i nomi finti perché si facciamo i nomi Shakira e Dominic Ecco ha detto i nostri nomi, vabbè dai facciamo stare Io diciamo ma ci chiamiamo Fratelli di Crozzo Vabbè non mi ricordo, te hai creato il canale Allora, andiamo a quella di? Allora io direi questo qui dai Perché questo? Io non devo dire lì No, quella forse non è per bambini E molte immagini si fanno YouTube che su YouTube Kids che mettono quelle robe Capito? Voglio mostrare Ah mi sto caricando Ecco andiamo Come non ho detto Io qui metterò un'immagine di Roblox Che bolla Ti metterò così tutti e ti prenderanno in giro Vabbè Sono crudo No, sono cruni Sono cruni Sono cotto No Guarda, è un crudo Com'è un crudo? È un crudo Ti mangia? Perché? Crudele ballare Vabbè All'ultimo Io qui metterò roba che balla Ok Io qui metterò un'immagine di Roblox Che farà tipo praticamente il giro E qui Hai capito Mi guardi Ok Ce l'ho fatta anche senza volerlo Mi guardi È sì, normale che ti guardo Vieni Allora Vediamo se Sì, sembra che sì Sto registrando Ok, raffiniamo Arriviamo almeno Se ridice Se Piccola Piccola Capita Se ridi Arriviamo almeno 5 like Anche perché Anche di più Almeno Almeno 10 10 Almeno 20 10 like 20 Vecchia Bene Contentate Mentre Stora se vinciamo Arriveremo 20 like Quindi Stiamo Partendo 2 1 1 1 Partiamo Benissimo Ma è bello Fare i video Su youtube Poi tutti Ti prendono in giro Bello Che fai Oh Che fai Ma come hai fatto Come vai Così L'acqua Qualcuno Ha detto Gestit Che fai Guarda, però guarda, 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 sta ferma, te c'è là, te c'è là è questo, guarda, vieni, 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 sopra, vieni, dove sei, dove sei, dove mi ho fatto macro stante scavo nella vita mia, perché, ecco, guarda, Allora,mai vedere, cosa, sta fermo, sei? Beh,小 te c'è, faciemelo non ci ho capito niente è finito io tanto ballo che di che cosa non ce la farebbe i venti re che devono farla e vabbè non ci senti perché stiamo dormendo eh non lo puoi fare lo puoi guarda come un ballo perché non ci posso fare no ecco no ma il bus è davvero tirare a muoio che la lo viste posso cadere apposta no 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 dai come come no 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 che vuoto ok eh no permetta Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Facciamo una parte 2 perché non finisce Allora se non ce la facciamo fare questa parte Proprio io faccio la parte 2 Facciamo la parte 2 e facciamo un altro gioco Allora No aspetta, non qui Se qui ti sei stupida Lo voglio recutare Recutare che esci dal gioco Ma sai almeno giocare Poi dopo te lo faccio io Ho vinto Non ci posso credere Ce l'ho fatto Giura E ti è tutto quello che ti ho detto prima Vabbè dopo facciamo la parte Vedi che la visuale va tutta da sola Posso muovere la visuale mentre corro Come fai? Non ci faccio mica così proprio Eh vabbè dai che c'è Ronaldo è il fenomeno che gioca a Robbio Andiamo Che ce l'ha fatta? Non ce l'hai fatta Non ce l'ha fatta Fammi la tua vai Vabbè dai aspetta Neanche tu non ce la fai Non funziona il tasto Sì Non funziona il tasto Prendi il tuo telefono Per questa parte ce la faccio Please Te lo deco io Non so Ah perché hai preso il tablet? Ecco tu com'è A tu o tu Ecco Aspetta ce la faccio La posta l'hai fatta? Ah sì forse sì Comunque volevo mostrarvi cosa sta facendo da ora ma non posso Ma spiega Eh sta Dici Stava Ma dillo la tablet fa un po' schifo eh Ah davvero? Mi sa che fai un po' tu che è schifo E vabbè guarda non ci funziona il tasto per saltare Non è vero Ah devi cliccare 3.000 volte per saltare Non è vero Cucciardo Che nerd Che nerd Sta zitta Wow che nerd che sei con i giochini Cosa ti ho detto? Ma poi smettere a buttare spiga deficiente Scusa Che brava che sei Ma che brava Ma te vuoi star zitta Faccio l'smr ok Smer Sta zitta ma stai zitta Non ti faccio l'smr Sta zitta me ne frega Ma come hai fatto a girare il visuale Ecco Aspetta Aspetta No Eh i tablet fanno schifo eh Facciamo stop e continuiamo Domani no No ferma Facciamo stop Perché Guarda che ci si disturbano eh Siamo ritornati? Sì 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 ho strassato Andiamo Dopo un'ora Vabbè Tutto a colpa Tu non riesci a fermi con la parte Vabbè Basta Vabbè Non te la faccio più Devono fare una parte Tu hai proposto No 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 Questo è tu Troppo Che ci hai portato E fa Un po' Non so No Non so Io Sono finta Sono finta Potete muovere? Non ce la farei mai Non vado a caricarle Ok aspettiamolo Aspetta Andiamo Eccoci ritornati qua Andiamo A volte dobbiamo staccare perchè Questo qui non sa fare alcuni livelli Cosa finiamo ai 20 like? Se li meritavamo What? Con qual è l'elogio della fisica? A me lo chiedi che non so niente Allora vabbè Perché? Cosa è successo? Non ci credo No Però a me piace fare i video su youtube Questa cosa a te Ma come? Perché ti piace? Ma te ti piace se no? A me si Non so se guardano tanti questi video Cioè Ah io lo condivido Ok E uno come sa? Che noi ci chiamiamo così? E i fratelli di crozza E i fratelli di crozza Non è che è stato difficile trovare il nostro nome E come sa? Non capisci niente Vero? Anche se I fratelli di crozza Mi pare che io ho sentito già questo nome Anche se non Potevamo prendere di tutto però Dai abbiamo trovato solo questo nome Anche di carota Abbiamo pensato di fare i fratelli con i rotelli per non ci sia Non d'aiuto Perché sono caduto nel vuoto ve lo spieghi? Mamma di dire che devo rifare tutto da capo Guarda dove sono Arrivo Sono arrivato col gommone Adesso Non prendi il point Cioè Gommone l'ho preso Sì Però è a mezzanotte Domenico Guarda dove sono? No 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 Dai no 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 Non mi dire dai Dai non mi dire Quasi niente no Dai Ma proprio no Vabbè dai Io lo finisco da solo dai Dai Ma sei scemo Ma finisco io? Vabbè dai faccio Nel mezzanotte giochiamo domani insieme Vabbè dai Vabbè dai Per questo video è tutto E facciamola parte 2 La prossima volta Parte 2 Ciao a tutti Vabbè dai Vabbè dai Vabbè dai